Dopo 23 anni di servizio ad Arco, il comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Rocco Gioeppe Dianò, va in pensione, sostituito da domani dal maresciallo Mirco Sollecito. L'amministrazione comunale di Arco ha organizzato una cerimonia di vicendamento alla presenza del sindaco e altri componenti della giunta, mentre per l'arma il comandante della stazione di Riva del Garda, Marcello Capodiferro. Ci è sembrato importante, ha detto il sindaco, creare un momento istituzionale e ufficiale di saluto al comandante Dianò, che lascia l'incarico dopo ben 23 anni passati nella nostra comunità e allo stesso tempo dare il benvenuto al nuovo comandante sollecito, che ne assume l'incarico. Non serve sottolineare l'importanza dell'arma dei Carabinieri per i territori. Il nostro per fortuna si caratterizza per un'invidiabile tranquillità, ma allo stesso i problemi ci sono, anche quelli meno eclatanti, che colpiscono comunque la cittadinanza in modo destabilizzante, ed è importante il presidio svolto dai Carabinieri, così come la loro attività non solo di repressione, ma anche di punto di riferimento morale e spesso di educazione e di esempio. È una cerimonia, questa, per nulla scontata e molto apprezzata, ha detto il comandante Capodiferro, che ci dimostra la stima e la considerazione di cui gode la nostra arma. Il maresciallo sollecito, che prende da domani il comando della stazione di Arco, si è arruolato nel 1991, dopo la scuola a lievi sotto ufficiali, è stato destinato prima a Madonna di Campiglio e quindi a Spiazzo, mentre dal 1996 si trova al nucleo operativo di Riva del Garda, dove dall'anno scorso è comandante del nucleo operativo e radiomobile. Ha compiuto diverse missioni all'estero, in Medio Oriente e a Tirana, ed è cittadino di Arco da tanti anni. Al comandante Dianò e al comandante sollecito, l'amministrazione comunale ha infine fatto omaggio di una stampa su Argento, che ritrae due scorci della città. Allora, il maresciallo Rocco Dianò lascia la caserma di Arco, in buone mani, qual è il saluto che vuole dare ai cittadini arcensi? Ho vissuto 23 anni bellissimi e intensi, in cui sono riuscito a entrare nel tessuto sociale della città e cogliendo aspetti molto significativi. Ho un bellissimo ricordo, porterò sicuramente un bellissimo ricordo di questa città e prometto che tornerò spesso, anche perché mi stabilirò altrove, a breve. Lasci comunque una città sicura? Ma sicuramente, anche perché il maresciallo che mi sostituirà è degna persona, preparato, umano e continuerà nell'opera che ho portato avanti, spero bene, in questi anni. Quali saranno gli impegni del nuovo comandante sollecito per avere una città di Arco sicura? Praticamente porterò la mia esperienza di ventennale, di aliquota operativa, di investigazione di polizia giudiziaria attiva, sia a livello locale che nazionale, a disposizione del territorio di Arco, di questa meravigliosa comunità che ha bisogno di maggior sicurezza e quindi con maggiori servizi e anche nel campo delle investigazioni. Ci sono alcune problematiche che dovrai affrontare o trovi un Arco particolarmente sicura? Diciamo che parto con un piede sicuramente giusto, perché conosco benissimo la realtà di Arco, essendo trentino di nascita e vent'anni sul territorio. I problemi sono comuni come quelli a livello nazionale, quindi problemi di stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche e i reati predatori, che continuano sempre in un trend positivo rispetto alla media nazionale, ma comunque destano sempre maggior preoccupazione nella comunità.